Calano a Capannori le liste di attesa per i servizi comunali rivolti alla prima infanzia. Per l'anno scolastico 2012-2013, grazie ad un'ottimizzazione dei posti disponibili, soprattutto per la cosiddetta fascia dei bimbi medi 15-24 mesi di età, è stato infatti soddisfatto il 63% delle domande a fronte di 186 richieste complessive. Un dato migliore rispetto all'anno precedente, quando furono accolte meno della metà delle domande, il 47% su 164 richieste totali. E per il 37% delle famiglie che non sono rientrate nell'elenco degli ammessi alle strutture comunali, nessuna disperazione, il Comune ha pensato anche a loro. Come? Gli esclusi avranno la possibilità di usufruire dei buoni servizi da 100 fino a 250 euro mensili per frequentare i nidi accreditati, i quali il Dado Magico Blu di Gragnano e Mary Poppins di Zone o il Nido il Piccolo Principe di Castelvecchio di Compito. Il Comune, tramite la Regione Toscana, erogherà questi bonus alle famiglie appartenenti alle fasce più deboli della popolazione che parteciperanno ad un apposito bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni. I buoni saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse regionali realizzando una graduatoria basata sulle liste di attesa, stilata secondo i criteri di ammissione ai servizi per la prima infanzia. Le mamme e i papà saranno contattati dagli uffici comunali che le informeranno dell'opportunità.